Allora, scusateci, possiamo dire, io Cinzia Quigliani e lei Carlo Impranumbo Siamo due visionari Siamo due visionari Abbiamo pensato di andare in Brasile, 45 giorni con tutto il gruppo, a fare un spettacolo che si chiama gestita la vacanza e molto visita E la seconda vez La seconda vez, la seconda volta Mica la prima, cioè mica cos'è E siamo sopravvissuti nonostante ci abbiano tentato la lita, capito? Insomma, siccome è come sempre ci divertiremo la faccia Comunque è stata dura Quando il gioco si fa duro I duri incominciano a giocare E adesso andiamo in Brasile Ciao Ah, e poi una cosa bella, siamo in albergo a 4 stelle, secondo me saremmo come gli extraterrestri dentro un hotel, allora immaginatevi Dario, Charlie, c'è un gruppo così, e ti ero un genio come il nostro, perché quello è che... Siamo appena arrivati a Brasilia, la capitale del Brasile, siamo alloggiati qui al Maratano Hotel, un bel hotel a 4 stelle, faremo 4 spettacoli a Sels Castillo Barbato di Brasilia e rimarremo qui fino al 5 di giugno. La legge 180, la legge Basaglia è quella che ha tirato fuori i matti dai manicomi, se io sono vivo, loro siamo qui e grazie alla legge 180, punto, punto, però... Ieri sera abbiamo fatto il primo spettacolo, beh c'era poco pubblico, una trentina, una cinquantina di persone, importantissimo c'era il capo di tutta la psichiatria brasiliana, tra l'altro il mister era già passato per Trieste, ci aveva lavorato un pochino, conosceva il gruppo, conosceva me, aveva visto addirittura una prova, era preparato per quello che avrebbe visto, gli è piaciuto tantissimo, ha fatto dei grandissimi complimenti, ce n'era una che piangeva dalla felicità, insomma per noi è abbastanza normale, tutto il giugno. Descela, descela! Ma oh no! Che oveglia, che bichos! Ogni che cosa ne dà! Tu vedi quanto voce salvava? Quando voce, oggi lo salvava! Andiamo in manicomio! Questa è l'entrata dell'ospedale psichiatrico di Porto Alegre dove dentro ci sono ancora circa 300 pazienti e non si riesce a chiudere questo posto o a trasformarlo. Ho qui davanti a me Fatima, che è la direttrice della deistituzionalizzazione dell'ospedale psichiatrico di Porto Alegre, è vero Fatima? Sì, 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 a un mese, più o meno! È da un mese! E che vuoi fare Fatima? Il primo passo? Prima di aprire i corazzi e le menti della città per dare accesso alla follia. Ha detto che è il primo passo che desidera fare è aprire i cuori e i menti della città per dare accesso alla follia. Sì, sì, sì. Già, sventila, incontraverai ... 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 che gli uomini sono scadone oltre lì che c'è l'infinito e il loro che gli uomini sono scadone vera, uomo bianco, vera e devi farlo subito sciogli in questa tua camera di essere sempre il migliore correre avanti, correre indietro correre dove fai c'è sempre l'infinito e la scopri è il segno di protesto e senza correre bene, correre indietro bene, 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 bene